Emergenza migranti, sbarchi senza sosta in Calabria, arrivati in 200 questa mattina nel porto di Rocella Ionica, erano a bordo di un veliero soccorso a 95 miglia dalla costa. Tra loro ci sono donne e bambini, sono 48 gli sbarchi a Rocella all'inizio dell'anno. Portapiana via ai lavori per la riapertura, questa mattina al sopralluogo del sindaco di Cosenza per verificare lo stato di avanzamento dei lavori avviati da via Grotta, San Francesco e da via Cavalcanti fino a via Vittorio Emanuele. L'arteria è chiusa da 5 anni. Un sindaco non è un potestà, questa è la replica del primo cittadino di Cosenza, Franz Caruso, che ha commentato la conferenza stampa di Maria Pia Funaro, ex vice sindaca sollevata dall'incarico. Il racconto della morte di Carolina Picchio, la storia della quattordicenne vittima di cyberbullismo, si è tolta la vita per colpa dei bulli. Il padre, i ragazzi ascoltano le sue parole, facciamo fatica ad intercettare i genitori. Ben ritrovati in nuova edizione dell'altro Corriere Tg, come sempre un saluto dalla nostra redazione, apertura che dedichiamo all'emergenza sbarchi di migranti in Calabria. Sono già 48 dall'inizio dell'anno quelli registrati a Roccella Ionica dall'inizio dell'anno, l'ultimo in ordine di tempo, quello di stamattina, con l'arrivo di 200 persone. I dettagli nel servizio. L'emergenza sbarchi in Calabria non accenna a placarsi, tutt'altro le ultime ore, complice la coda estiva meteorologica, hanno visto l'intensificarsi degli arrivi sulle nostre coste. Sono circa 200, infatti, i profughi di varie nazionalità, ma in prevalenza afghani ed iracheni, giunti stamattina nello scalo di Roccella Ionica, al termine di una complessa operazione di soccorso iniziata nel Mar Ionio, portata a termine e compiuta congiuntamente dalla Guardia Costiera Roccellese e dalla pattugliatore Barbarisi della Guardia di Finanza. Tra i circa 200 migranti ci sono donne, numerosi bambini e minori, alcuni dei quali non accompagnati. Quando sono stati individuati in mare dai militari della Guardia Costiera di Roccella Ionica e dalle fiamme gialle, i migranti si trovavano a bordo di una barca a vela di oltre 20 metri localizzata a circa 95 miglia dalla costa della Calabria. L'imbarcazione, secondo quanto raccontato da alcuni profughi, sarebbe partita nella notte tra giovedì e venerdì scorso dalle coste della Turchia, in prossimità del porto di Izmir. Con l'arrivo di oggi è salito a 48 il numero degli sbarchi nel porto di Roccella Ionica dall'inizio dell'anno, per un totale di quasi 5.000 profughi approdati. Altri 90 migranti erano stati salvati nella notte dell'8 ottobre scorso ancora a largo di Roccella Ionica. Dopo l'attracco nel porto delle Locride, i migranti sono stati temporaneamente alloggiati nella tenso struttura realizzata all'interno dell'area portuale, gestita dalla Croce Rossa e dalla Protezione Civile. Spazio adesso ai temi di cronaca, perché un uomo di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri del Comando Provinciale di Milano per l'omicidio di Paolo Salvaggio, avvenuto quasi due anni fa a Bucinasco l'11 ottobre del 2021. L'arrestato, pregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato localizzato e catturato in provincia di Catania, dove si era stabilito dopo il delitto. Il provvedimento è scaturito dagli elementi emersi da una complessa attività di indagine svolta dai militari del Nucleo Investigativo di Milano, diretti dalla Direzione Distruttuale Antimafia di Milano, dopo l'omicidio di Salvaggio, elemento considerato di spicco della criminalità milanese, con importanti legami in relazioni sia con la cosca d'Indrangheta dei Barbaro Papalia che con i superstiti del clan dei Catanesi. Ancora cronaca, perché i carabinieri della stazione di Torano Castello, in provincia di Cosenza, insieme al personale del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Rende, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale nei confronti di un ventenne originario di Cerceto, indagato per il reato di lesioni personali aggravate e detenzioni illegale e porto abusivo d'arma da sparo in luogo aperto al pubblico. Le indagini sono state avviate dalla serata del 1 settembre 2023, quando i militari sono intervenuti nella zona adiacente alla villa comunale, dove erano stati esplosi due colpi d'arma da fuoco con il ferimento di sette giovani, di cui tre minori. Da quanto è emerso il presunto responsabile avrebbe vantato un credito per questioni private nei confronti di uno dei giovani feriti. Noi voltiamo pagina, parliamo dei lavori, al via dei lavori per la riapertura della strada entro dicembre. Stiamo parlando di Porta Piana con il sopralluogo effettuato questa mattina dal sindaco di Cosenza, Franz Caruso. L'arteria è chiusa da cinque anni. L'8 marzo 2021 Giampiero Terasi si schiantò contro il guardrail soccorso Vittorio Emanuele in zona Porta Piana a Cosenza, mentre era in sella la sua Ducati. L'impatto fu fatale per il 33enne. Il luogo dove avvenne il sinistro era un tratto scarsamente illuminato dove in seguito ad una frana erano stati posizionati dei New Jersey. Le barriere, che da quanto è stato rilevato dai primi accertamenti, non erano state adeguatamente segnalate. Sul caso avviò l'inchiesta la procura di Cosenza, guidata da Mario Spagnuolo, e due degli indagati. Hanno optato per il rito abbreviato e sono stati condannati ad otto mesi, gli altri invece rinviati a giudizio. Questa mattina il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, si è recato sul posto per un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. È stato un avvenimento che purtroppo ha portato anche uno strascico doloroso con la morte del giovane Tarassi, al quale va il pensiero anche dell'amministrazione in questo momento. Sono partiti i lavori, come si può vedere, finalmente c'è il cantiere, perché se ne è parlato per tanto tempo, però purtroppo la burocrazia, ma le lentezze in genere della macchina amministrativa regionale e anche comunale hanno impedito che questo intervento avvenisse nei tempi che invece erano necessari. Nello scorso mese di giugno sono state consegnate alla ditta vincitrice della gara d'appalto le aree di intervento, compreso il costone di Portapiana, da cinque anni chiuso al traffico e teatro di quel terribile incidente. Per l'8 dicembre dovremmo avere l'inaugurazione di questa strada. Se il tempo ci aiuta, mi dice l'impresa, se così non dovesse essere, comunque entro il mese di dicembre, io spero che si possa riaprire al traffico queste importanti arterie. E questa mattina proprio il primo cittadino di Cosenza, Caruso, ha commentato la conferenza stampa di Maria Pia Funaro, l'ex vice sindaca sollevata dall'incarico. Non mi lascio tentare dai pettegolezzi, ha detto il sindaco, ciò che è stato detto non ha attinenza con la realtà. Sentiamo. Io devo dare risposta alla gente, non ai singoli che raccontano fatti che non hanno nessuna attinenza con la realtà. Per quanto mi riguarda ci sono state anche dei riferimenti che sono fuori da quelle che sono le normative che reggono la vita delle pubbliche amministrazioni. Il sindaco non è un podestà, il sindaco è un soggetto, è il primo cittadino, è rappresentante del comune e ha delle facoltà che gli vengono riconosciute dalla legge. Nel momento in cui viene meno un rapporto fiduciario con le persone che con lui dovrebbero collaborare, dovrebbero portare avanti il suo programma, li può revocare. Stiamo però a Cosenza, parliamo del racconto della morte di Carolina Picchio, 14enne vittima di cyberbullismo. La giovane infatti si è tolta la vita per colpa dei bulli. Il padre ha raccontato i nostri microfoni, i ragazzi ascoltano le sue parole. Facciamo fatica invece ad intercettare i genitori. Carolina Picchio si è tolta la vita a 14 anni per colpa dei bulli. Nella notte tra il 4 e il 5 gennaio del 2013 la sua anima fragile d'adolescente cede dinanzi alle vessazioni. Carolina si toglie la vita e si getta dalla finestra della sua cameretta. La sua storia è un pugno nello stomaco, la racconta ad una vasta platea di studenti il papà Paolo Picchio, presidente della Fondazione Carolina, nel corso di uno dei panel organizzati nell'ambito della rassegna Music for Change, organizzata dall'Associazione Musica contro le Mafie e ospitata nel Museo delle Arti e dei Mestieri di Corso Telesio a Cosenza. Ogni anno incontriamo almeno 70.000 ragazzi e vediamo che i ragazzi ricepiscono il messaggio di Carolina. Quando si legge la lettera di Carolina che è la scritta per loro, loro se la sentono. Quello che purtroppo abbiamo un grosso problema è intercettare i genitori. Non li sentiamo vicini perché per loro non è una responsabilità, mentre invece l'educazione sul web è la loro prima responsabilità. Cambiamo ancora argomento. Il prossimo 20 e 21 ottobre al Via Lackermess Deco della Calabria, la prima esposizione dei prodotti a marchio Deco, ovvero delle nazioni comunali di origine e delle tipicità locali, organizzata dal comune di Fuscaldo col sostegno della Regione Calabria. Una a due giorni per promuovere i prodotti tipici del territorio di Fuscaldo. Il 20 e 21 ottobre prossimi la cittadina del Tirreno Cosentino ospiterà la Kermessa Deco della Calabria, la prima esposizione dei prodotti a marchio Deco, denominazioni comunali di origine e delle tipicità locali organizzata dal comune di Fuscaldo col sostegno della Regione Calabria. Sarà un'ottima Kermessa, un'ottima vetrina per i prodotti tipici della nostra stupenda e meravigliosa terra. Noi puntiamo tantissimo, sin dal giorno del nostro insediamento, su quelle che sono le tipicità che corrispondono e contraddistinguono Fuscaldo e la stessa cosa deve valere per tutti quanti gli altri comuni della Regione Calabria perché abbiamo delle unicità e delle specificità che esaltandole, perché esaltando la diversità riusciremo a fare in modo che quelli che sono dei tratti distintivi della nostra Regione possano emergere per fare in modo che i nostri prodotti possano arrivare ai livelli che gli competono. Un'iniziativa presentata questa mattina in Cittadella Regionale è resa possibile dall'approvazione della legge regionale che istituisce e disciplina il registro regionale dei comuni con prodotti Deco. La valorizzazione dei prodotti anche di nicchia, di estrema nicchia, come quelli che sono riconoscibili, sono un territorio comunale che hanno una denominazione di origine comunale può essere un altro strumento per ampliare le consapevolezze sui territori e per fare in modo che si crei ulteriore economia. Il Consiglio regionale con il collega Giannetta I firmatario e Dio II firmatario ha approvato una legge per l'istituzione del registro regionale delle Deco dei prodotti con denominazione di regione comunale e quindi credo che adesso questo percorso possa brillantemente cominciare. Questa legge ha lo scopo di istituire un registro dei comuni con prodotti Deco proprio per veicolarli e valorizzarli. L'iniziativa di oggi che è la conferenza stampa di presentazione della straordinaria 2 giorni di Fuscaldo vuol dire che abbiamo centrato nel segno e l'obiettivo è quello di promuovere e valorizzare e fare promozione e marketing di questi prodotti. Restiamo a Catanzaro perché all'istituto nautico Petrucci Ferraris Maresca è stata consegnata dalla presidenza del Consiglio dei Ministri un'imbarcazione che nel 2019 ha portato decine di migranti sulle costi calabrese ed era stata poi confiscata. Sentiamo. Un'imbarcazione di 15 metri che nel 2019 ha portato decine di migranti sulle coste calabrese è stata consegnata dalla presidenza del Consiglio dei Ministri all'istituto nautico Petrucci Ferraris Maresca, un evento simbolico ma del significato importante. L'imbarcazione infatti servirà per istruire gli studenti che frequentano l'istituto. La consegna è avvenuta nel cortile della scuola davanti a rappresentanti civili, religiosi e militari. La dirigente Elisabetta Zaccone ha annunciato per la prossima primavera, dopo il periodo necessario al rimessaggio e dalla dotazione tecnica, il varo della barca nel porto del capoluogo calabrese dove i ragazzi potranno fare le ore di alternanza scuola-lavoro. E non c'era un'imbarcazione. Tre mesi fa, su una nostra richiesta, rispondendo a una manifestazione di interesse della Prefettura, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ci ha proprio assegnato questa imbarcazione denominata Alberto, sequestrata dalla compagnia di Sellia Marina nel 2019 alla Malavita. È da tre mesi che lavoriamo su questo progetto che per noi è stato ambizioso ma l'abbiamo realizzato, ovvero i ragazzi finalmente potranno fare formazione sull'imbarcazione, ovvero utilizzare sia la strumentazione reale dell'imbarcazione, sia la strumentazione simulata del nuovo laboratorio di Nautico. In chiusura del nostro OTG ci occupiamo di salute mentale con l'iniziativa organizzata a Catanzaro, la seconda conferenza regionale organizzata in questo caso dalle associazioni del terzo settore. Sentiamo. Questa è la nostra comunità competente che raggruppa oltre 60 associazioni e la seconda conferenza regionale sulla salute mentale. La prima la tenemmo ad aprile del 2022. In questa conferenza noi abbiamo posto dei punti che sono da una parte il rafforzamento della partecipazione e quindi attraverso la costituzione di un coordinamento regionale sulla salute mentale che approvi un piano di azione regionale. Altra questione molto importante che noi poniamo è quella della integrazione sociosanitaria e in questo caso voglio dire un incontro tra le reti formali che sono il distretto 2.0, il CSM e appunto le reti informali che è il mondo del volontariato, il terzo settore, le parrocchie, i centri sociali che insieme appunto portano in avanti un progetto di inclusione sociale della persona. Stiamo andando avanti in un'integrazione sociosanitaria che risponda finalmente alle esigenze del territorio. Oggi con la conferenza sulla salute mentale poniamo al centro dell'attenzione un argomento che solo negli ultimi anni è diventato importante anche a livello nazionale, un po' per pregiudizio, un po' per gap infrastrutturali in generale non della Calabria ma della nazione intera non è mai stato messo al centro la salute mentale. Bene per l'edizione del nostro OTG è tutto, grazie per la vostra cortesia e attenzione. Vi lascio adesso ai programmi dell'altro Corriere TV. Buon proseguimento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.